E' un tema affascionante, insomma i dati ce ne parlano chiarissimamente, pare che ogni volta che si parla di cucina in una trasmissione televisiva lo share, cioè la percentuale di persone che guardano la televisione salga di quattro punti, o è una leggenda metropolitana oppure è la verità, pare che addirittura abbiano chiesto a sua santità Benedetto XVI all'Angelus che non ha tanti ascolti se poteva scodellare la pasta. Lui ha detto no, due Wurster li faccio ma la pasta no, perché ho una dignità da difendere.